Il primo intervento che introduce il tema grosso, stiamo parlando del passaggio dalle scrivanie come potere del funzionario della pubblica amministrazione al dato che circola liberamente in rete, è proposto da Federico Morando, Centronexa Internet e Società, che ci racconta a che punto siamo con l'opera data nella pubblica amministrazione, facendo particolarmente riferimento a esperienze locali, tra le quali suppongo ci sia quella del Piemonte. Grazie agli organizzatori, a Luca De Biase, io cercherò molto rapidamente di fare un punto della situazione che è una situazione abbastanza delicata, cioè il percorso verso l'open data fatto bene, utile ai cittadini e in generale utile alla società è veramente a metà di un guado. È veramente un momento critico in cui penso che non ci sia più il modo di tornare indietro, il rischio però di bloccarsi è serio. Ci sono stati dei passi avanti interessanti, la prima metà di questo guado non è stata banale e alcune cose le abbiamo ormai conseguite. Spero che sia difficile che queste vengano perse, ma il rischio c'è. Una delle cose che abbiamo sicuramente raggiunto è la consapevolezza. Questo grafico del numero di dataset liberati, virgolettato di dati .gov, il nostro portale italiano che cerca appunto di fare un po' da indice di tutti i dati aperti, può essere criticato da decine di punti di vista. Dal punto di vista tecnico, questo numero di dataset non vuol dire niente. Sullo stesso database io posso fare mille viste e ognuna descriverla come un dataset e la mia istituzione pubblica va al primo posto della graduatoria. Però mettere in fila, come poi si cerca di fare alcune volte, i più bravi e i meno bravi per numero di dataset non vuol dire tantissimo. Perché per esempio Istat si spera che resti al primo posto essendo un soggetto che chiede a tutti gli altri i loro dataset e poi li mette assieme e li pubblica. Però questa crescita significa qualcosa. Questa crescita significa che ormai anche l'ultimo degli amministratori pubblici sa che esiste questa tendenza, sa che probabilmente non si può ignorarla. Purtroppo non tutti la stanno gestendo nel modo migliore. Sicuramente questa consapevolezza è diventata sinonimo di dire che è politicamente corretto aprire i dati, ci mancherebbe altro. Nessuno può più dire che non è fattibile il processo di apertura perché ci sono realtà che l'hanno portato avanti molto seriamente a livello di pubblicare le singole fatture con i nomi dei beneficiari per tutte le spese di un comune, esperienza che per prima ha fatto Firenze e che adesso molti altri stanno facendo anche in virtù di norme che lo rendono obbligatoria, almeno per certi tipi di spese. Sicuramente esiste ormai a tutti i livelli utili, in particolare in regioni come il Piemonte che hanno anche una legge regionale molto forte sul tema, un apparato normativo che mette a riparo qualsiasi pubblico ufficiale dal dubbio che non sia il suo dovere fare open data. Ora è chiaro a tutti che bisogna aprire questi dati, certo evitando di violare la privacy dei cittadini e così via, ma c'è ogni tipo di supporto a livello di norme europee, a livello di norme nazionali, a livello di norme locali. Ed è interessante vedere che ci sono anche esperienze pratiche, anche codice open source riutilizzabile per fare in modo che aprire questi dati in una maniera tecnologicamente anche abbastanza avanzata abbia dei costi sostanzialmente contenuti nell'ambito di qualche decina di migliaia di euro per cominciare e un po' di ore uomo. Quindi qualsiasi amministrazione può cominciare a farlo, forse anche con meno di qualche decina di miliardi di euro perché questo per le amministrazioni più piccole può essere evitato utilizzando per esempio i portali regionali che in molte regioni accolgono anche i dati, per esempio del livello comunale o di qualsiasi altra pubblica amministrazione del territorio che voglia pubblicare i suoi dati, così come avviene in Piemonte. Questa slide ha il compito principale di farvi vedere quell'indirizzo internet che è la pagina dell'ufficio relazioni in colpo il pubblico della regione Piemonte dove c'è il modulo per chiedere dei dati. Molto semplicemente inviando una richiesta che non richiede nemmeno di essere motivata via PEC si avvia una procedura per cui entro 30 giorni la regione deve rispondervi o con il dato o chiedendo e motivandolo altri 30 giorni per approfondire e poi fornire il dato. Naturalmente ci si può rifiutare di farlo solo per quelle ragioni che dicevamo prima cioè il dato non è di regione, è di un terzo a livello di diritto d'autore e copyright diciamo oppure non posso darlo a quel livello di dettaglio perché ci sono dati personali dei cittadini però per esempio posso aggregarlo leggermente. E quindi sicuramente in regione Piemonte dal punto di vista normativo secondo me il lavoro è fatto quindi se non uscirà più una norma sugli open data a livello programmatico dal consiglio regionale secondo me non c'è nessun problema, è già stato fatto tutto quello che doveva essere fatto. Adesso il livello è quello di pubblicare davvero i dati e questa concorrenza semplificata dal numero di dataset aperti è comunque un processo interessante. Cioè il fatto che in questo momento secondo una metrica la regione Lombardia abbia aperto più dati del Piemonte è un'ottima cosa per il Piemonte, cioè superiamoli di nuovo. Però non basta contare i dataset, non basta neanche continuare a pubblicare nuove norme come il decreto trasparenza abbastanza recente che pure secondo me sta avendo un effetto positivo è una delle cose che ci hanno portato a metà del guado in effetti molte amministrazioni oggi hanno cominciato ad adempiere in modo significativo agli obblighi del decreto trasparenza. Se voi fate un giro sul sito di qualunque comune, magari a partire qui dal sito del consiglio regionale trovate moltissimi dati che prima non erano disponibili o magari lo erano in formati meno riutilizzabili per cui lo sforzo è in corso, è imperfetto, basti dire come esempio singolo che dal decreto trasparenza è sparita a un certo punto da un articolo la parola contratti rispetto alle cose di cui si doveva rendere disponibile in formato machine readable ogni informazione. Quindi ora un sussidio all'università deve essere documentato in una tabella processabile automaticamente però una consulenza strategica no. Quindi questo è abbastanza interessante, è un limite ma nessuno impedisce alle istituzioni di metterci anche le informazioni relative ai contratti e alle consulenze in questa tabella in cui è già obbligatorio per legge pubblicare per esempio tutti i sussidi e i contributi per esempio ai centri di ricerca, alle associazioni e così via. Quindi può darsi che continuando lungo questa strada anche se a volte con una macchina un po' scassata come quella di questa immagine si riesca a passare il guado e si riesca a raggiungere un po' quello scenario che Luca De Biade tratteggiava all'inizio in cui certo abbiamo dei dubbi però passiamo oltre e poi cerchiamo di risolvere le piccole cose che non funzionano in questo processo. Ma per riuscire a passare oltre in questa fase a metà del riguardo ci serve assolutamente un riutilizzo forte di questi dati perché aprire i dati costa fatica, la visibilità che si è raggiunta mette anche tutto il processo al centro dell'attenzione in primo luogo di quelli che stanno facendo fatica ad aprire i dati spesso con norme che dicono senza oneri finanziari aggiuntivi per cui sono ore di lavoro in meno per fare altri lavori utili dentro la pubblica amministrazione per cui se apriamo i dati ma nessuno li riusa allora rischiamo di incagliarci magari proprio a un centimetro dalla fine del nostro guado. Quindi rapidamente che cosa sta funzionando? Sta funzionando a mio avviso il riuso di quei dati che chiaramente già avevano una utilità forte che costavano tanto per essere raccolti e che qualcuno già chiedeva magari senza offrire grandi cifre ma che erano dati che già avevano una domanda per esempio i dati geografici nel caso di Regione Piemonte non vado nei dettagli perché probabilmente tra qualche giorno ci sarà un comunicato stampa che parlerà di un riuso molto interessante permettono a delle aziende attive in questo settore di riproporre prodotti che erano diventati magari troppo costosi perché di nicchia su ambiti specifici ma che possono essere aggiornati per esempio a livello di mappe specialistiche grazie a Dataset che comunque la Regione Piemonte raccoglie ma raccoglie anche la Regione Liguria e tante altre regioni il fatto che ora siamo arrivati in Italia a un punto in cui varie regioni aprono questi dati permette ai privati di fare dei servizi aggregandoli e rendendoli più utilizzabili al singolo cittadino sono utilissimi i dati che si aggiornano spesso in tempo reale per esempio 5T che gestisce una parte dei dati sulla mobilità, sui trasporti locali in particolare a Torino ma insomma anche nel resto del Piemonte ha fornito in passato alcuni dei dati più utilizzati in Apps for Italy perché per esempio dava il numero di posti liberi nei parcheggi in struttura a Torino ogni pochi minuti quindi poteva creare un servizio effettivamente utile per esempio da mobile quindi che cosa sembra suggerire il fatto che gli esempi che funzionano sono spesso in quest'ambito dati georeferenziati, dati che hanno già una domanda a mio avviso il punto è che dobbiamo un pochettino incominciare a dare priorità scegliendo possiamo discuterne dopo ma a mio avviso i dati che hanno a che fare con grossi investimenti da parte del pubblico o con un mercato che già dimostra di funzionare per esempio il caso di Regione Piemonte è stato molto interessante per i dati geografici perché c'era già un mercato Regione Piemonte non aveva interesse forse neanche la struttura per fare un profitto dalla venta di questi dati regalandoli risparmia costi suoi interni di gestione perché non riusciva ad avere un profitto ma libera potenzialità per il mercato ci sono molti dati che invece oggi hanno un mercato quelli dell'agenzia del territorio i dati del sistema camerale qui il punto è che se noi seguiamo i soldi capiamo che c'è già un mercato magari da 50 milioni di euro come ordine di grandezza che arriva al sistema delle camere di commercio grazie al fatto che questi dati vengono ceduti a degli intermediari che poi li distribuiscono bene ci vorrebbe il coraggio di dare 50 milioni di euro al sistema delle camere di commercio per liberare questi dati perché dal corso di economia di base si sa che se io un qualcosa che adesso è venduto più o meno a prezzo di monopolio lo do al costo marginale in questo caso è zero aumento significativamente il benessere generale probabilmente moltiplico per mille il numero di soggetti che possono fare servizi a valore aggiunto su questi dati e quelli che già li fanno ora che sono più grandi hanno più esperienza vengono spinti a fare servizi a valore aggiunto maggiore quindi lì c'è sicuramente la possibilità di fare cose grandiose aprendo i dati ma non senza oneri finanziari per lo Stato all'inizio si mettono 50 milioni di euro nel sistema camerale e se la cosa funziona forse aumentano le tasse dal mercato del riuso di questi dati però c'è un investimento da fare c'è una scommessa da fare se non la facciamo senza oneri finanziari andiamo avanti con piccoli ritorni su piccole cose dal punto di vista invece della trasparenza l'investimento grosso da fare sempre seguendo i soldi sarebbe aprire i dati che riguardano i centri di potere economico nelle varie istituzioni una regione che i dati deve aprire quelli sulla sanità secondo me cioè deve naturalmente con tutte le cautele necessarie dal punto di vista della privacy della riservatezza dei singoli cittadini come può una regione che ha nel suo bilancio io non so la percentuale però 80% grosso modo di spesa sulla sanità non chiedersi fortemente non investire magari anche qualche migliaio di euro nel capire come si fa ad aprire questi dati perché per esempio anche solo per la regione stessa se si scoprissero anche solo le piccole matante truffe per dire che finiscono spesso sui giornali in tutta Italia del medico farmacista compiacente fa false ricette ai danni al sistema sanitario e nazionale ecco che la regione ritornerebbe immediatamente di quelle poche milioni di euro investite per capire come aprire i dati in un modo utile a fare un'analisi di questo tipo ma non pericoloso per la privacy dei cittadini e di scienziati dei dati che possono fare un'analisi per identificare delle ricette sospette in una certa farmacia per esempio ce ne sono molti e molti sono anche qua in sala quindi abbiamo tutti gli strumenti secondo me per fare una cosa di questo genere ma c'è un rischio politico è ovvio che aprendo quei dati può venire fuori qualcosa dispiacevole come minimo il fatto che magari non ci si è accorti che una di queste truffe c'era però accorgersene grazie al fatto che sono stati aperti i dati è un qualcosa di cui vantarsi sulla prima pagina dei giornali non qualcosa da nascondere mentre se viene fuori ora grazie a striscia la notizia di una farmacia che ha fatto questa truffa nessuno ci fa una bella figura tranne striscia la notizia appunto il soggetto che abilita l'eliminazione di questo problema per cui concludendo e sempre seguendo i soldi anche i piccoli ammontari che vengono investiti negli open data forse sarebbero da pianificare un po' meglio anche facendo open data sul costo dell'open data cioè dicendo che la regione Piemonte nel suo complesso quest'anno ha un budget piccolo 100.000 euro per fare open data qual è il modo migliore di spenderli non solo per aprire i dati che è una parte importante ma anche eventualmente per fare la formazione interna agli enti e verso l'esterno per far sì che più soggetti siano in grado di utilizzarli perché questo riuso non accade per caso accade perché fuori dalle istituzioni ci sono tante più persone di quelle che ci sono dentro non necessariamente dentro la PIA ci sono persone con meno fantasia e doti tecniche di quelle che ci sono fuori ma di sicuro ce ne sono di più fuori che dentro per cui mettendo più persone in grado di gestire questi dati si fa qualcosa di utile però bisogna documentarli bene spiegando chi è all'interno come si fa a far capire all'esterno cos'è un dato e scegliendo bene il dato da tirare fuori perché tutti a tempo non si possono aprire l'obiettivo finale è aprire tutti i dati ma costa e richiede tempo e poi verso l'esterno dobbiamo aumentare banalmente le competenze informatiche matematiche sulla data visualization data science in generale perché non possiamo immaginarci che il riuso dei dati pubblici sia tutto iperdemocratico va benissimo la sezione trasparenza dei siti è fatta in maniera tale ed è giusto che sia così che il singolo cittadino possa andare lì aprire il pdf e guardare quanto guadagna il dirigente X quante sono le ore di assenza in media in quell'ufficio bene però il livello in cui si fanno inferenze complesse su questi dati o si costruiscono servizi complessi su questi dati richiede degli intermediari e ora l'Italia rispetto ad altri paesi ha meno programmatori meno persone con una background statistico quindi investiamo su questo ci saranno moltissimi ritorni che non hanno niente a che fare con l'open data ma anche l'open data migliorerà la sua performance in termini di conseguenze sul riuso quindi non lo so accordiamoci con i corsi universitari di statistica per fare gli esercizi casi d'uso sugli open data magari mettiamo 500 euro di premio per lo studente che lo fa meglio cioè incoraggiamo questo tipo di attività e sicuramente la giornata di oggi anche da questo punto di vista mi pare interessante perché questo pomeriggio si parlerà proprio dei risultati di un contest che incoraggia il riuso dei dati e qui concludo grazie grazie Federico molti temi già da discutere che ci teniamo come avete visto dal programma per una parte di interazione di domande alla fine dei primi tre interventi comunque certamente i temi sollevati sono notevoli se il riuso è per iniziative a valore commerciale che rapporto c'è con licenze creative commons non commercial che ci possiamo allegare a questi dati eppure sui dati della sanità naturalmente tutto quello che riguarda la privacy che viene data per scontata come tematica resta comunque sempre molto complessa da affrontare peraltro appunto secondo me un tema che sarebbe bellissimo poter affrontare con dei dati è se ci costa di più aprirli o ci costa di più chiuderli tenerli chiusi perché c'è un'industria del proteggere i dati che a sua volta costa le pubbliche amministrazioni